Vabbè, ho capito, passo io dalla salumeria e vado a prendere pure i bambini. Sì, vabbè, hai chiuso, dai. Vabbè, sì, ciao, ciao, dai. Tua moglie? Che palle voglio. E' assai, io d'amore, e' assai. Ma come vi siete conosciuti, scusa? Eh, misi un annuncio sul giornale. Un annuncio sul giornale? Scusi, quanto hai speso? E' mi pare 30 euro. Con 30 euro che vai trovando, scusa. Non è, c'è, voglio dire, metti qualcosa in più.